Prosegue l'ampia azione di contrasto ai furti e alla ricettazione di parti di autovetture o motoveicoli avviata dai carabinieri del comando provinciale di Catania sul capoluogo e in tutta la provincia etnea al fine di colpire il fiorente mercato nero di ricambi d'auto. In tale contesto operativo i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania nel territorio del comune di San Giovanni La Punta hanno arrestato in flagranza un 31enne responsabile di furto aggravato. La gazzella dell'arma a seguito della segnalazione di un passante è tempestivamente intervenuta in via Balatelle dove un uomo si stava aggirando con fare sospetto tra le autovetture parcheggiate inginocchiandosi vicino ad un veicolo. Militari giunti sul posto hanno immediatamente iniziato a perlustrare la zona scovando alla fine il 31enne che alla vista dei carabinieri aveva cercato di nascondersi tra le macchine vicino al marciapiede dove erano state abbandonate una chiave a croce, due ruote in lega complete di gomme e quattro coppette centrali di una Fiat 500 che era stata cannibalizzata venendo appoggiata su due mattoni di cemento senza le due ruote dal lato destro. All'esito dei successivi è certamente all'interno di un'auto con la quale l'uomo era arrivato sul posto i militari hanno inoltre recuperato una piccola officina portatile per lo smontaggio delle componenti meccaniche e di carrozzeria delle autovetture nella lista della spesa del ladro. Quest'ultimo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Solo dallo scorso gennaio in riferimento a questo fenomeno delinquenziale i carabinieri di Catania hanno già operato cinque arresti in flagranza e sei denunce a piede libero. In particolare due pregiudicati sono stati tratti in arresto per furto a mister bianco poiché sorpresi nel tentativo di smontare un catalizzatore da un'auto e trovati in possesso di due ulteriori marmitte di provenienza illecita. Un altro soggetto pregiudicato è stato bloccato mentre stava smontando un bauletto da uno scooter parcheggiato di fronte alla banca d'italia e due individui entrambi con pregiudizi di polizia sono stati fermati nel quartiere Picanello in un garage privato nell'atto di cannibalizzare una vettura rubata nuova di zecca per rivenderne i pezzi. In merito ai deferimenti per ricettazione furto i militari hanno invece proceduto nei confronti di un pregiudicato catanese scoperto in via Zialisa mentre vendeva abusivamente ricambi rubati di fronte alla propria abitazione di due soggetti già noti alle forze dell'ordine sorpresi in via Plebiscito mentre cercavano di smontare uno sportello da un'auto di un residente del quartiere Librino trovato in casa con 18 catalizzatori e due gruppi ottici posteriori di una macchina di provenienza illecita e di due catanesi con precedenti di polizia specifici corti in possesso di una centralina d'auto di una Fiat appena rubata nella zona del vecchio ospedale Garibaldi